Io direi che senza dubbio è una tappa d'obbligo da fare perché chi vuole conoscere davvero questo gioiello che è San Gimignano secondo me deve prima passare da questo museo per rendersi conto di quello che poi vedrà successivamente davvero. Mi ha impressionato questo lavoro molto originale è la prima volta che vedo un lavoro, cioè una città così miniatura, veramente quindi mi ha impressionato anche perché vedo quanto tempo avranno dedicato e come avranno fatto questo lavoro che non è facile solamente creare una cosa del genere poi del resto è molto bello, è fatto bello. Well, I would say it's the best thing we've seen since we've been in Tuscany so far it's just beautiful, it's nice, it's compact, it doesn't take all day we've seen a lot of the cathedrals that are all very impressive but nothing that gives you the richness of the history thoroughly recommend it, come and see for yourself. È un lavoro certosino, penso innanzitutto a tutto il lavoro che c'è dietro storico di ricerca e poi riportare tutto questo lavoro di ricerca in maniera concreta con queste costruzioni, con i dettagli è veramente incredibile. It's really great to get the full impression of the whole of the town how it has been hundreds of years ago and you have to see it, you have to come, ok? Ok? Ok?